Amici sportivi, a tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati. La Lucchese dunque ha ripreso la preparazione. Sabato c'è un'altra trasferta, quella di Re Canati contro la Re Canatese. Andiamo dunque ad analizzare quello che è successo sabato allo Stadio dei Marmi e le prospettive di una Lucchese che poco alla volta, mister Gorgone, sta cercando di plasmare. Poco alla volta, perché si sa in tutte le cose, la fretta è spesso cattiva consigliera. Così la vittoria della Lucchese contro il volenteroso Sestri Levante di Barillari non deve illudere. Tanto lavoro e tanti passi in avanti deve fare la squadra per trovare il top della condizione. Lo sa anche Gorgone che da questo abbrivio stagionale ci pare attento e saggio, uno che non fa voli pindarici e questo ci piace. Al Marmi sono arrivati tre punti, ma la prova è stata discreta e nulla più. La Lucchese ha vinto e non ha rubato nulla, ma ha rischiato di andare sotto con quello sbandamento in avvio di ripresa che lo stesso tecnico ha analizzato in sala stampa. Una delle note positive della serata carrarina è stato rientro in grande stile di tiritiello, valoroso ai tanti e capitano, che assieme a Benassai costituisce una coppia centrali che ha pochi uguali. Un tassello alla volta che adesso si attende anche l'inserimento di Magnaghi. È lui il centravanti preso per fare la differenza, ma soprattutto per segnare le reti necessarie a rendere questa Lucchese protagonista. Prima però c'è la Re Canatese, che non ha giocato nella seconda giornata. La partita sul campo della Juventus B è stata infatti posticipata a mercoledì 27 settembre. Dei marchigiani rimane finora la sola gara interna della giornata inaugurale, perduta in casa 2-1 contro la Torres. Al Tubaldi, sabato prossimo, calerà la Lucchese, che contro i giallorossi Re Canatesi, la tradizione è tutt'altro che favorevole. Lo scorso anno finì 0-0 all'andata, al termine di una gara davvero scialba, mentre nel match di ritorno al Porta Elisa una Re Canatese Maramalda e padrona del campo si impose con un secco 3-1. Un tabù da sfatare. Abbiamo l'arbitro di Re Canatese Lucchese, la gara sarà diretta dal signore Emanuele Ceriello di Chiari, assistenti Daniele De Chirico di Molfetta e Angelo Tomasi di Lecce. Sempre per il calcio, ma scendiamo in Serie D, la partita Cenai-Arealforte-Querceta, seconda giornata del girone di andata in programma domenica prossima, 17 settembre alle ore 15, sarà disputata allo stadio comunale Rossetti di Cecina. Brusco passo indietro di Jasmine Paolini battuta in due set, 7-5-6-0 dall'americana Emma Navarro nei sedicesimi di finale del torneo di San Diego. Primo set combattuto e gettato alle ortiche da Jasmine che conduceva 5-2, crollo verticale, poi della Paolini nel secondo set, prossimo impegno per la tenista lucchese a Guadalajara in Messico. Parliamo di padel, un sogno che per il giovanissimo giocatore Mattia Bugelli, 14 anni e mezzo di Porcari, si è avverato alla scuola tennis del circolo nautico a Carrara. Il giovane, lo vediamo in questa foto, ha potuto passare una mattinata intera di allenamento con uno dei più famosi giocatori di padel al mondo, ovvero l'argentino Leonel Aguirre, meglio conosciuto come Tolito, il giocatore più spettacolare al mondo, capace di giocate impossibili, che ovviamente ha messo in mostra anche durante l'allenamento con il piccolo Bugelli. Drammatico play-out, sportivamente parlando, tra nuove pantere Lucca e softball nuoto e softball nuoro. In palio la permanenza in Serie A2, si ripartiva dal risultato di parità, 1-1 maturato sul diamante di Carraia, le nuove pantere vince gara 3, col punteggio di 12-8, poi nuoro vinceva gara 4, dunque sul 2-2 si è resa necessaria la bella, le sarde avanti 4-1, poi 4-2 decisivo il sesto inning con le lucchesi che ribaltavano tutto, vincendo 6-4 e conquistando una insperata ma bellissima salvezza. È andata, possiamo dire, benino, ma non forse come ci si aspettava nel campionato di società su strada, la 10 km di Pescara, parliamo del gruppo podistico Parco Alpiapuane del presidente Graziano Poli. Quando si dice la panchina lunga e non parliamo di calcio, a Pescara, nella seconda prova del CDS 2023, 10 km su strada, il gruppo podistico Alpiapuane è riuscito a limitare danni conquistando un buon terzo posto dietro al solito imprendibile Casone Noceto e stavolta anche alla Dinamo Sport per soli tre punti di differenza. Il terzo gradino del podio dei biancoverdi del presidente Poli è dovuto proprio alla robusta e abbondante compagine con cui la società si è presentata in riva all'Adriatico. I ritiri di Francesco Guerra e Nicolò Bedini, entrambi in giornata no, e la caduta di Omar Bouamè hanno penalizzato e non poco gli apuani, scesi in Abruzzo baldanzosi e con la speranza, neppure tanto recondita, di fare il colpaccio. Ma nello sport ci sta, in una gara peraltro disputata, sotto una cappa di caldo infernale, ma questo valeva per tutti, di avere qualche passaggio a vuoto. Tre obiettivamente, come quelli suddetti, sono troppi. I cinque punteggi biancoverdi sono stati così distribuiti, ottavo Poltiongic, ventiseiesimo Lorenzo Brunier, trentatresimo Vincenzo Agnello, trentacinquesimo Antonino Lollo e cinquantaduesimo Francesco Nardone. Nella classifica generale, dopo due prove, parco al secondo posto, con mille e sette punti contro il 1166 del solito squadrone emiliano. Ora non resta che l'ultima prova, la mezza maratona, in programma d'ottobre a Terese Eterno, in provincia di Benevento, appunto il 15 ottobre. Sarà dura, ma sperare non costa nulla. Ennesima impresa dell'intramontabile campione paralimpico Stefano Gori, a Cless di Trento, l'atleta lucchese, nella foto con la sua guida storica Giuseppe Balducchi, ha messo a segno una tripletta ai campionati italiani del centro sportivo italiano. Oro sui 200 metri, nel getto del peso e nel lancio del giavellotto. Sui 200, Gori è stato affiancato dal decatleta David Rondanini. Passiamo al basket. Colpo di scena, inaspettato l'ennesima testimonianza di un impianto, il pala box di Alto Pascio, totalmente inadeguato per il basket senior. Prima del match amichevole contro il Danny Quarrata, nel tentativo di abbassare una retina sganciata, il canestro, lato tribuna, ha iniziato a spruzzare olio, cedendo di schianto. Fortuna ha voluto che nessun atleta in quel momento si trovasse nei paraggi. Commenta il presidente del Bama, Sergio Guidi, in un impianto anni 60 i canestri sono molto più moderni, visto che hanno soltanto 31 anni. Aggiunge Guidi, sono esauriti, consunti, pericolosi e insicuri. Lo abbiamo già segnalato all'amministrazione comunale tempo fa e lo faremo di nuovo. Venendo al match amichevole, il Bama, faticato contro un Danny Quarrata, ricordiamo, squadra di categoria superiore gioca nella Binter regionale 60-82 il punteggio finale. Il prossimo impegno per il Bama, impegno ufficiale, domenica alle 18 in Coppa Toscana contro l'Union Basket Prato. Manco a dirlo che per tutto quello che abbiamo detto finora, la partita si giocherà al Palasport Sandro Pertini di Ponte Bugianese. Sempre per il basket, al Palatagliate di Lucca, vittoria del Bologna-San Lazzaro, nel primo torneo settembre lucchese riservato alla categoria under 17 femminile. Nella finale le felsine hanno battuto le parietà del basket Pegli di Genova per 63-47. Nella finalina per il terzo posto, netta affermazione delle mura spring sul Ponte d'Era, 74-32. Le premiazioni, come abbiamo visto anche in queste foto, si sono svolte alla presenza dell'assessore allo sport del Comune di Lucca, Fabio Barsanti. Si è svolto a Borgamozzano il secondo trofeo in memoria di Francesco Tontini. Manifestazione di prestigio con club provenienti da tutta Italia, un'occasione utile per testare lo stato di forma delle ginnaste. Parliamo di ginnastica ritmica. Nell'insieme Gold, la coppia Junior, Senior, Cerchio Palla, formata da Sonia Galli e Rebecca Del Freo, convince giuria e pubblico e si classifica al primo posto. Le girasoline disegnano traiettorie vincenti e pulite ed interpretano con brio il brano degli anni 60 a cuore matto, meritando ampiamente la medaglia d'oro. Bene, è tutto per quanto riguarda la pagina sportiva del TG Noi. Io mi fermo qui, breve pausa, poi il telegiornale si completa come sempre con la terza ed ultima parte.